Va a destra, va a me, fatto uno, fatti due, fatto questo, manca uno, fatto uno, let's go! Vi ricordo ragazzi di passare su eneva.com per acquistare crediti, abbonamenti e giochi ai migliori prezzi disponibili sul mercato. Diamo un'occhiata velocissima al sito e come prima cosa troviamo GTA a 10€, FIFA 22 a 30€ e tantissimi altri giochi ma passiamo alla parte dei crediti. Per le varie console qui veramente troviamo delle offerte davvero davvero super. Guardate un po', 50€ di PSN Card e ve li portate a casa a soli 40€. 75€ di PSN Card e ve li portate a casa a soli 61€. Volete fare una super spesa? 100€ a ben 82€. Così è per tutte le console e tutte le piattaforme. Quindi ragazzi vi invito a passare tutti i link in descrizione e con il codice Gianna avrete diritto ad un ulteriore sconto. Torniamo al video. Bella ragazzi sono Giambrito e in questo nuovo video quest'oggi vi propongo ben 17 bombolozze fatte con un super bar e con un super stan che come nello scorso episodio non necessitano di essere super livellati. Lo scorso video vi è piaciuto un botto, avete provato le armi e siete stati super contenti per cui quest'oggi sono qui per riproporvi questo format. Oggi ci deliziamo con ben 17 bombe, il mio record attuale è 19 e non è per nulla male secondo me su Caldera. Quindi vi invito a seguirmi su tutti i link in descrizione. An Instagram ho pubblicato una clip davvero assurda fatta contro un super pro player. Non ci credo neancora, sono riuscito ad ammazzare uno dei king, dei rivals davvero fantastico. Andatemi appunto a seguire e seguitemi anche sul sito dove faccio le dirette. Cerchiamo di battere queste 19 bombolozze. Nel frattempo vi lascio al video e alla classe. Fatemi sapere cosa ne pensate. Un salutone, buona visione. Potremmo andare a Capitano. E' per mine. E' ormai in guada. Dai power, la pianta potente. Gente raga, gente, gente, gente. Sopra, sotto, ci saranno 1500 persone su quello centrale. Spero di trovare qua un'arma altrimenti... Io posso vettare. Anch'io. Poco o molto osso? Vado da dietro. E qua da me? Ho fatto uno, ok. Non ti ho mai nientato. Finitemi se che sono sopra, boys. Sotto, 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 sotto. Sotto? Andai al coltivatore. Amma mia che schifo. Dov'è che te ne ho fatto, bro? Altri? Ho sentito aprire qua? Eh sì, sono qua, bro. Qua di fronte. Da fuori, da fuori. Sopra qua già non... Eh, minchia, in tredici. Non potrai farlo. Ammiga, sono riuscita a vincere un gulag. Oggi ti ho sempre sentito bestemmiano al gulag. Ci hai buttato? Sì, è sfruttato. È da me. Andiamo a fare un po' di autoress. Faccio UAV. Autoress. Oh, questi qua mi sa che arrivano verso di noi, eh. Eh sì. Eh sì, sono qua, sono sotto ormai. È qua di fronte, è qua di fronte a me. Fatto uno. È sopra la collina, là? L'ho vista, l'ho vista. Vado sotto, allora, da quello sotto. Avete un altro UAV, raga? Ne sono tutti i due suoi amici, questo. Raga, questo qua a sinistra e vado vicino, eh. Sembra distante, ma in realtà è vicino. Un porco, due. Buono. È one shot. Fatto, fatto. UAV non abbiamo più UAV. No, intanto io sono qua in safe. Devono arrivare praticamente due team qua, quasi da me. Questi guarda che si stanno lanciando verso di me, forse. Sono andando veloci, non è che hanno qualche... Ah, guarda, sono costati questi, eh, di base. Sì, sono costati, sì. Merda, mi hanno già visto, cazzo, col cecchino. Sì. Sì, ma uno è anche qua vicino, mi sa. Ma dove cazzo sono, raga? Mi fanno, eh. Sono dall'altra parte. Di là, anche uno. Fatto uno, fatto... Qua sopra? Grande. L'altro è di fronte. Ah, è là col cecchino, bro. Dove? Qua, di fronte a me. One shot. Eccolo, ce l'ho davanti. Che cazzo è andato questo? Ce l'ho davanti, raga, io proprio. Ah, vuoi il combo, ragazzi? Eh, qua davanti, raga, c'è un cecchino da me. Oh, parola, no? Già. Eh, là dietro. Provo a farmelo. Qua da me è uno. Fatto uno. Craccato il cecchino, raga, è craccato. Ne ho un altro qua. Grande. Confermi te, Gianco. Sì, sì, sì. Però fermo. L'altro è one shot dentro, eh. Vedi che è like, questo. Eccolo. È andato là dietro? Qua? Avete tirato tutti, raga? Ok. Minchia, allarate là sopra. Raga, dobbiamo zonare questi qua adesso. Ci facciamo 20 kill. È qua sopra, qua sopra, bro. Occhio che ci arriva in faccia. Eccolo qua, a destra, qua, a destra. Eccolo. Ho visto. Uno è sceso, eh, già. A terra uno. A terra due. Aspetta, ti do un colpo. Occhio al bomb. Torna dentro. Occhio perché non vorrei che ce ne fossero altri a destra, eh. Dettagno a livello anche. Ok, l'ho visti. Di fronte. Aspetta che non riesco a salire, bro. Arrivo. C'è un altro turato. Qui ci vuole una flashbang. Quanto consiglio, bro. Mi ha autoretto, mi ha autoretto. Fatto qua? Ce l'è stato. No, no, ce n'è uno qua. Oh, raga, mi ha cicchinato uno. C'è uno sotto, boss. Aspettiamo, tanto siamo in una posizione buona noi. Dove sono, boys? Qua sotto? Qua, 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 qua. Qua, 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 qua. Hanno rissato? L'hai fatto? Quello è lo shop, bro? No, 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 non l'ho fatto, non l'ho fatto. Mi sparano. No, no, no. Fatto? Ok, dai, mancano tre. Deve vero, li sto tenendo occupati. Faccio un focus su di me, basta. Eh, qua non riesco neanche ad uscire, cazzo. Fatto uno. Let's go! Grandi, raga. Content a fine serata, eh? Il content a fine serata. Di 67 bombe, buono. NSMG più forte? Ma no. Però è buono, secondo me.